Signore e signori buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Questa sera mi è stato chiesto di riparlare della stipsi, della stitichezza, malattia molto diffusa, soprattutto nella donna. Ma vediamo cosa si intende per stipsi. Si parla di stipsi quando un soggetto ha meno di tre evacuazioni alla settimana. Questo per definizione, tanto per intenderci. Quando parliamo di stipsi dobbiamo subito pensare se è una forma acuta o se è una forma cronica. Questo perché? Perché vanno escluse delle cause che non hanno niente a che vedere con l'intestino di per sé, in parte, e altre che sono patologie tipiche del tubo digerente che possono condizionare questo tipo di disturbo, questo sintomo. E sono per esempio l'ipotiroidismo. Quando uno ha la tiroide che funziona poco, ha anche molto spesso l'ipotiroidismo. e la stipsi. Nel morbo di Parkinson, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, il problema della stipsi in corso di malattia di Parkinson è un problema qualche volta molto rilevante, molto difficile da affrontare. E ancora il lupus eritematodes, la SLA, la sclerosi laterale miotrofica, malattie di cui abbiamo già parlato e che possono condizionare delle stipsi, in questo caso croniche. Può esserci invece un quadro acuto in corso di un cancro dell'intestino, cioè di un'occlusione dell'intestino da parte di una massa non necessariamente maligna, ma comunque che occlude il transito alle feci. Ma le cause principali sono legate alla motilità dell'intestino, cioè un intestino pigro, un intestino che non si muove, che non ha peristalsi, che non fa progredire le feci proprio per una sua condizione particolare. E quali sono i sintomi? Ovviamente a parte l'evacuazione tre volte alla settimana abbiamo detto, meno di tre volte alla settimana, possono essere quelle di sensazioni di evacuazione incompleta, feci dure o a palline, feci caprine cosiddette, gonfiore addominali, crampi addominali, qualche volta anche importanti e di conseguenza ragadi o emorroidi, che sono la conseguenza, non la causa naturalmente della stitichezza. Fra le cause però dimentichiamo sempre, e io ho elencato una serie di consigli come sono abituato a fare, dimentichiamo sempre errori alimentari. E vediamo un po'. Quali sono le regole o i consigli che mi sento di dare? Primo, cercare una soluzione che non siano i lassativi. Perché? Perché se uno si fa riferimento a lassativi costantemente, ovviamente non mi riferisco a un utilizzo occasionale, quello va comunque bene, ma se si lega a un uso costante, qualche volta in me quotidiano, di lassativi, rischia di diventare uno stitico cronico grave e avrà sempre maggior bisogno di aumentare le dosi o trovare alternative terapeutiche più efficaci. Un'altra cosa, mai reprimere lo stimolo. Noi abbiamo più volte al giorno lo stimolo a defecare. Non bisogna ignorarlo. Bisogna accettare lo stimolo e provvedere, così come è importante, bere molto. La prima terapia della stipsi cronica è proprio due litri di acqua al giorno, possibilmente distribuiti nella giornata e a piccoli sorsi. Però questa è, ripeto, la base di tutto. L'attività fisica aiuta andare di corpo. Attività fisica aerobica migliora la peristalsi intestinale, dà una mano all'intestino a svegliarsi, dato che dorme, come abbiamo detto. Poi utilizzare fibre, frutta e verdura, ma anche fibre, crusca, per dire la vecchia crusca, che ha qualche problema di gestione sicuramente, è comunque una buona regola. L'importante cos'è? Creare massa e liquido insieme saranno un'eccellente terapia che spesso risolve il problema senza passare alle purghe. Ancora, cercare di andare di corpo dopo i pasti. È una buona regola, perché il segnale post-brandiale è molto frequente e solo lo apprezziamo. Noi ci ritroviamo a creare una sorta di abitudine e questo rieducare intestino è molto importante. Cosa usare al di là delle purghe, come abbiamo detto, tradizionali? Lo psyllium, la metilcellulosa, i purganti osmotici cosiddetti, cioè alternative all'uso del classico purgante, che il più delle volte sono erbe mescolate più o meno bene, dalla senna, che è il più venduto in Italia, fino a miscele varie di queste cose. Ripeto, sempre un qualche cosa che bisogna cercare almeno di rimandare. E i fermenti lattici cosiddetti non sono una terapia della stipsi, però i probiotici che vanno a integrare la flora batterica buona intestinale possono dare una mano. Sono terapie lunghe però, non sono terapie occasionali, non hanno niente a che fare con le purghe. Nelle forme molto gravi e resistenti sono stati commercializzati due prodotti molto efficaci, molto potenti, ma anche con effetti collaterali qualche volta gravemente disturbanti. Chiaramente questo è un qualche cosa che va gestito dal medico, dallo specialista e raramente ce n'è bisogno, salvo in quelle forme secondarie di cui abbiamo parlato prima. Grazie, buonasera.